Buongiorno, sono Giuseppe Piero, amministratore di Admajura. Admajura rappresenta la nuova frontiera dell'editoria tecnica, il nostro progetto in costante progresso e la specializzazione editoriale attraverso la pubblicazione di libri destinati ai professionisti. La Admajura ad oggi conta sette sedi operative sparse a livello nazionale, oltre 120 collaboratori, oltre 200 autori e consulenti che collaborano con noi. Io sono felice e orgoglioso di iniziare questa collaborazione. L'idea condivisa con la redazione di TrainLive è quella di dare spazio ai nostri autori ma anche ai nostri clienti, quindi spazio per pubblicizzare le loro professioni e per raccontare la loro collaborazione proprio con la casa editrice. Quest'anno cade il ventennale della casa editrice Admajura, quindi ci saranno nel corso dell'anno tante iniziative e pronto il nostro logo celebrativo, il logo Admajura che andrà su tutte le nostre linee editoriali, quindi Admajura, Energitech e Admedical. Inoltre faremo nel mese di giugno una mostra dove appunto saranno esposti tutti i nostri prodotti editoriali dall'inizio fino al giorno d'oggi, proprio per far vedere l'evoluzione che ha avuto Admajura in questi vent'anni. Sempre a giugno verrà fatto un incontro con Giuseppe Calabrese alla quale parteciperanno, inviteremo tutte le nostre collaboratrici o i nostri autori che hanno dato il loro contributo per far sì che Admajura sia diventata da un piccolo ufficetto di provincia a quella che è oggi. Admajura Grazie 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 Grazie